Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Oggi ci rivolgiamo a tutte le amanti delle borse fatte a mano. Sappiamo che per creare una borsa fatta a mano, che sia ad effetto, che sia insomma unica, sono necessari molti elementi. Partiamo sempre da un cordino e quindi dalla qualità di questo, dalle colorazioni, ma non dobbiamo mai dimenticare anche quelli che sono gli accessori ed in particolare i piccoli dettagli. Oggi ci soffermeremo sui moschettoni, un piccolo dettaglio delle nostre borse ma che può davvero renderla unica. In particolare analizzeremo ora nel dettaglio i moschettoni ad anello apribili, facilissimi da utilizzare anche per chi è alle prime armi. Il primo che vediamo è il moschettone anello core. Il colore è il canna di fucile e l'ampiezza di questo moschettone è di 40 mm. Come vediamo il moschettoni è apribile molto facilmente in questa maniera. Lateralmente abbiamo anche questo forellino che vi permetterà di creare ad esempio anche dei portachiavi. Tutti i moschettoni ad anello apribili sono realizzati con materiali resistenti e durevoli nel tempo, così da garantire una lunga durata ed una buona resistenza all'usura. Tutti i moschettoni hanno infatti il trattamento antischeggio che conferirà una maggiore protezione contro graffi e danni. Restando sulla forma del cuoricino sono disponibili anche i moschettoni art. La misura è di 21 mm e anche questi hanno un forellino laterale, l'apertura in basso e sono in una confezione da due pezzi. Passiamo ai moschettoni ad anello più classici, quindi un classico anello con apertura laterale. Quella che vediamo è la misura da 30 mm, ma sono disponibili nel formato da 18 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm e 40 mm. Tutti sono venduti in coppia. Oltre alla colorazione argento, i moschettoni anello sono disponibili anche nella colorazione oro e canna di fucile e nelle varie dimensioni. Se preferite dare un tocco di glamour in più alla vostra borsa, oltre ai moschettoni anello classici, sono disponibili questi sun. Quindi un moschettone con una particolare lavorazione che ricorda proprio i raggi del sole. Anche questo facilissimo da applicare grazie all'apertura laterale. Restando sulle forme un po' più particolari, abbiamo anche il moschettone triangolo. La misura è di 25 mm. Anche questi sono disponibili in coppia e anche nella colorazione oro. Per concludere vediamo i moschettoni stars, quindi a forma di stella con apertura laterale. Questi moschettoni presentano alla base un anellino che vi permetterà anche qui di creare magari anche un portachiavi o comunque avere un doppio aggancio. La misura di questo moschettone è di 25 mm. Come vi avevo già anticipato, le forme e le colorazioni sono diverse, quindi adattabili sia alle borse più classiche, sia a quelle più particolari o perché no, potreste applicare anche un moschettone, magari dalla forma particolare come il cuoricino o la stella, ad una borsa molto semplice così da donare un tocco di carattere e di stile. Le varie misure disponibili, quindi a partire da 18 mm fino ad arrivare a 40 mm, permetteranno di scegliere il moschettone più adatto alle vostre esigenze, quindi anche in riferimento alla tracolla oppure al manico che andrete ad applicare. Tutti i piccoli dettagli che possono fare davvero la differenza per le vostre creazioni. Infatti la caratteristica di questi moschettoni è quella di essere molto versatili, potete applicarli davvero a tantissimi progetti. Arrivati a questo punto non mi rimane che ricordarvi di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su tutti i nostri canali social, la pagina Facebook Meglio di Maya, dove condividere con noi i vostri lavori, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog, così da essere sempre aggiornati su tutte le novità Tessiland. Al prossimo Tessiland News!